Doppia mazzata sullo zaccheria. Alla giornata di squalifica inflitta ieri dalla giustizia sportiva che ha deciso di chiudere per un turno lo stadio e le porte ai tifosi per la sfida col Monterosi in programma nell'antivigilia di Natale, si aggiunge la decisione dell'osservatorio per la sicurezza delle manifestazioni sportive che ha aggravato la punizione per gli scontri tra tifosi al Pinto di Caserta, chiudendo le porte dello stadio anche in occasione della gara in programma domenica col Potenza. All'indicazione dell'osservatorio farà seguito l'ordinanza della prefettura, dunque il Foggia giocherà senza i propri tifosi nelle ultime due gare dell'anno solare. Salgono così a quattro i turni di squalifica dello zaccheria già chiuso dopo il derby e l'incendio di Taranto nelle gare contro il Giuliano e la Virtus Francavilla. Un danno per la società e per i tifosi del Foggia, soprattutto gli abbonati e oltre a quei tifosi la stragrande maggioranza che con gli incidenti di Caserta non hanno nulla a che vedere. Decisioni che appaiono poco condivisibili in verità e che non fanno altro che allontanare ulteriormente la gente dagli stadi.